Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'alta pressione continuerà a garantire una fase stabile ed estiva sul nostro paese. Un campo di alta pressione che continua a dominare la scena del Mediterraneo occidentale con tanto sole e soltanto qualche disturbo atteso sulle Alpi orientali. Avremo infatti il sole prevalente in post tutta l'Italia, anche se un po' di variabilità insisterà sui settori montuosi nella seconda parte del giorno, specie delle Alpi. Per quanto riguarda proprio la mappa della precipitazione notiamo come nella seconda parte di venerdì ci potrà essere qualche disturbo sulle Alpi orientali con occasionali fenomeni, tempo asciutto sul resto d'Italia. Ma vediamo il tempo previsto sul nostro paese nel corso di venerdì. Avremo quindi tanto sole da nord a sud con clima praticamente estivo, in particolare sulle pianure del nord, ma anche sulle zone interne del centro con punte vicine ai 28-30 gradi, un po' di variabilità come dicevo sull'arco alpino, specie nel pomeriggio, con occasionali acquazioni possibili sulle Dolomiti orientali. Per tutti i dettagli consultate l'app di Trebi Meteo.